Le statistiche dicono che nelle attività di pesca un terzo del materiale issato dalle reti è pesce e circa due terzi sono rifiuti. Rifiuti che spesso si traducono in materie plastiche a fortissimo impatto ambientale se rigettati in mare, ma sono anche rifiuti che diventano un costo di smaltimento per i pescatori per quello che riguarda poi materiali che sono accidentalmente pescati nelle attività lavorative. Ora però c'è la eco isola del porto, questo container che vedete al mio fianco, container bianco, la cui installazione vi avevamo anticipato a fine aprile. Oggi si stanno facendo delle prove di funzionamento perché a breve verrà attivato questo sistema in cui i pescatori avranno appunto una funzione di smaltimento apposita e a chilometro zero rispetto ai loro ormeggi. E come vedete ci sono vari scomparti da vetro a indifferenziato, plastica, lattine, materiale ingombrante, vari scomparti per smaltire correttamente questi rifiuti. Un progetto realizzato grazie a un bando europeo che ha messo insieme le attività del Comune di Pesaro e Marche Multiservizi e che recepisce una legge regionale voluta tra gli altri dal consigliere Andrea Biancani che abbiamo intervistato sull'argomento. Attualmente i pescatori qualora pescono durante le proprie attività di pesca, se raccolgono il materiale plastico e lo portano nei porti, sono costretti a pagare lo smaltimento e quindi ovviamente sembra uno che deve raccogliere quello che non è legato alla propria produzione, sarebbe come si chiedere ai bagnini di dover pagare lo smaltimento delle plastiche che vengono raccolte lungo la riva delle spiagge. Quindi quest'isola ecologica è un progetto derivato da un progetto sperimentale, un accordo fatto tra Autorità Portuale e Capitaneria, ovviamente Regione Marche, Comune di Pesaro e Marche Multiservizi e sarà appunto dedicata a tutti quegli operatori che raccolgono il materiale plastico che potranno essere smaltiti all'interno di quest'isola ecologica. E sarà con una tessera, quindi non è che sarà una nuova discarica nel porto dove ognuno potrà arrivare e abbandonare i fiuti liberamente, ma sarà necessario essere riconosciuti, cioè essere autorizzati per poter scaricare questo materiale. È l'inizio di un percorso, è da anni che è presente una norma a livello nazionale, il Parlamento, quello che viene chiamato il decreto salva mare, che prevede appunto la possibilità di pescatori di smaltire le plastiche che pescono durante la propria attività. Il Governo ancora, il Parlamento non è riuscito ancora a licenziare questa legge, come Regione Marche l'abbiamo fatta nel 2018, abbiamo anticipato i tempi e questo è il primo risultato.